Dalla bellissima Cuneo, è veramente bellissima Cuneo, abbiamo il grande professore matematico e scrittore Pier Giorgio Di Freddi, buongiorno. Buongiorno a voi, come va? Va abbastanza bene, noi stiamo parlando di matematica, forse ne abbiamo dette tante, quindi l'aspettavamo perché su questo deve un po' illuminarci, abbiamo scoperto comunque. Bisogna arrivare a Di Freddi che in sua assenza ha osato perfino spiegare cosa sia un algoritmo. Finché il gatto non c'era i topi ballavano. Però professore, noi la spiegazione dell'algoritmo che ci cambia la vita quotidiana, nel bene e nel male, poi magari ne parliamo, la vogliamo da lei? In realtà gli algoritmi non sono semplicemente altro che un programma informatico che qualcuno scrive tanto per cominciare, e quindi non hanno una personalità propria, riflettono soltanto la personalità del programmatore e che poi hanno applicazioni certamente ubique, direi oggi universali, possono andare dalla borsa alla programmazione degli acquisti ad esempio su Google e così via. Quindi effettivamente stanno diventando un po' universali al giorno d'oggi. Però sono cose assettiche, diciamo così, che spesso noi ce la prendiamo con gli algoritmi perché pensiamo per esempio che siano stupidi come a volte sono, ma quando un algoritmo è stupido ovviamente è semplicemente perché è stato stupido il programmatore che l'ha programmato. Tra l'altro gli algoritmi, benché possano sembrare qualcosa di estremamente moderno, riflettono già nel loro nome che deriva da Al-Khwarizm, che è il nome di un antico matematico arabo addirittura dell'Ottocento, senza il mille ovviamente, della nostra era, quindi più di 1200 anni fa. I matematici hanno sempre usato algoritmi per fare i loro calcoli, solo che le cose poi bisognava implementarle a mano. Il vantaggio di oggi è che invece di dover fare queste cose a mano si possono fare col computer. Addirittura anche gli algoritmi per esempio per giocare a scacchi, che poi negli anni 90 sono arrivati addirittura a battere il campione del mondo, Kasparov. Ormai si fa un campionato mondiale di scacchi per programmi e uno per uomini perché sono ormai cose diverse perché i programmi giocano molto meglio degli uomini. Ebbene dicevo il primo algoritmo, il primo programma per scacchi è stato scritto da Turing, l'informatico che ha inventato il computer, e poiché però il computer ancora non era stato realizzato l'ha implementato lui a mano, cioè giocava contro un uomo ma lui fingeva di essere una macchina. Quindi l'unica differenza che c'è appunto con gli algoritmi del passato è che oggi c'è una macchina potente che ci permette di fare i calcoli molto veloci, quindi questi algoritmi sono diventati molto più potenti. Sa professore, noi ci siamo un po' concentrati poi sul potere dei numeri e ci siamo accorti che veramente intervengono nell'agire umano più volte, come diceva lei, nel bene e nel male perché qualche volta anche loro dimostrano la loro stupidità. Ho l'impressione che gli umani continuino ad essere un po' più stupidi dei numeri perché poi i numeri alla fine siano trasparenti. Quando si parla di matematica, portavamo l'esempio delle banche che negli ultimi anni nelle figure professionali più ricercate mettevano proprio i matematici, quindi la necessità che la finanza, che comunque è sempre stata brutta e sporca e cattiva nell'opinione collettiva, diventasse qualcosa anche di ben diverso e di ben orientato. Chi conosce la matematica ha potere? Certamente ha potere soprattutto in una società come la nostra che ormai è diventata digitale. La parola digitale stessa riflette digit in latino, significava l'indice, ovviamente il dito, ma soprattutto anche il numero. Quindi oggi tutto ciò che è digitale è numerico. Noi stessi per esempio che stiamo parlando attraverso una telecamera, attraverso collegamenti di questo genere, lo facciamo attraverso i numeri anche se questi però sono trasparenti, noi non li vediamo. Non vediamo che quando un'immagine viene presa, viene scomposta in tanti pixel, ciascuno di questi pixel ha un colore, viene inviata all'informazione sui colori, poi viene rimessa insieme. La stessa cosa succede ad esempio per la voce, per l'acustica, quando parliamo al telefono ad esempio l'onda sonora viene scomposta in tante onde sinusoidali di cui si trasmette la fase, l'ampiezza, la lunghezza, sono tutti numeri e una quantità enorme tra l'altro di numeri. A volte ce ne sono parecchi come nel caso delle onde sonore e a volte ce ne sono molte di più come nel caso delle immagini. Per questo che quando poi ad esempio attraverso la mail o altri sistemi di comunicazione ci mandiamo una foto, e beh questo costa meno dal punto di vista informatico e di trasmissione di quanto non costi invece un'immagine che è molto più potente. Non parliamo dei film ad esempio o dei filmati che lì hanno molte immagini messe insieme e così via. Dietro a tutto questo ci sono numeri. È chiaro che in una società basata sui numeri come la nostra, chi conosce i numeri un po' più da vicino ha diciamo così un vantaggio evolutivo nei confronti di coloro che non lo conoscono. Naturalmente bisogna stare sempre attenti perché poi queste cose anche per gli esperti della materia possono prendere la mano per così dire. C'è sempre il problema dell'apprendista stregone, cioè di qualcosa che può scappare di mano e fare quello che vuole lui. Un esempio recentissimo è stato il cambio tra la sterlina e l'euro, dove credo una settimana o due fa, proprio perché questo cambio era affidato nelle contrattazioni a un programma, ad un certo punto c'è stata una corsa al ribasso della sterlina che non rifletteva naturalmente il valore economico del denaro in quel momento, bensì semplicemente il fatto che si fosse innescato un meccanismo automatico. Queste cose purtroppo è molto difficile prevederle e a volte i programmi fanno cose che non sono quelle per le quali erano stati programmati, quindi anche lì bisogna stare molto attenti e ovviamente ci sono dei rischi, però i vantaggi sono enormi. Poi la vecchia storia dello strumento che non è buono e cattivo in sé, ma dipende dall'uso che se ne fa.